buongiorno ragazzi bentornati in questo video un saluto da simone e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi apriremo come vedete c'è l'offerta del baule maggio ragazzi ragazzi è uscito un nuovo aggiornamento pazzesco aspettate un attimo comunque ragazzi è pazzesco questo aggiornamento bellissimo spero di arrivare in questo modo però non ci riuscirò mai ragazzi come vedete c'è il baule magico lo apriamo in questo momento aspettate un attimo anzi no aspettate sì sì ragazzi lo apriamo subito bellissimo spero di trovare la leggenda ragazzi vai allora quattro o forse sì ragazzi finalmente sì ragazzi no ragazzi guardate per quanto la stavo per trovare no ragazzi la stavo per trovare qua questa è buonissima stoffetta però ragazzi la stavo per trovare cioè volete vedere vabbè intanto 40 mila d'ora è buono vedo riesce oltre con il ghiaccio nel negozio con ragazzi cioè per quanto ho aperto il baule magico tutto lo trovate anche le rare per la prima volta però vabbè facciamo l'attacco però due se ne hanno una tre bellissimi leggendari per la prima volta del baule magico mai trovata facciamo l'attacco dando la la voce di mio fratello sottofondo il dettaglio vediamo che mette lui vedete sono ritornati c'è di nuovo un'arena leggendaria è difficile questa arena non è facile scendo risalgo allora guardate questo spero che non alla scarica intanto 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 scusate ragazzi però questo palma entrano escono guardate il boia che skin non so come dire bella bella già la scarica mi devasto ma non ce l'avevo ecco dovrei usare una tronco per forza se non mi fa troppi danni ma potrei anche non fare questo però intanto siamo in vantaggio strano bellissimo il boia anche forte allora mettiamo il gigantro al livello 8 cioè e vorrebbe essere più alto però ecco mi devasto quasi come importante che faccio la torre io se no qua mi devasto questo vabbè mettiamo il boia intanto il ritornatore se no qua riesco manco a farla torre e guardate ragazzi cioè guardate per quanto c'è 104 di vita non mi sto stare con l'occhiare inutile niente ragazzi vuole magico quasi leggendario però niente ragazzi ci vediamo un prossimo video bella bella bella